no ma non ho paura no io non riesco neanche a prendere il telefono che mi tremano le mani e mi casca tutto grazie che mi tremano raga guardate dove sono che bellezza la mia seconda volta in montagna sulla seggiovia il telefono trema perché mi tremano le mani dalla fifa però è stupendo e guida con me che mi accompagna com'è andata com'è andata dimmi cosa ti ha detto era lì tipo parca puttana quanto stiamo in alto